Una decisione da prendere in pochi secondi nel tentativo di salvare la vita al figlio. E Federica, che vive in provincia di Vicenza, ha fatto la scelta giusta, salvando la vita al suo bimbo di 11 anni. E oggi può ringraziare l'Ulse 4 e il medico che hanno organizzato quel corso di primo soccorso. Qualche giorno fa erano al ristorante giapponese. Improvvisamente il ragazzo smette di respirare perché un'alga si era incastrata in gola e stringe forte il braccio della mamma, che capisce tutto. In due secondi ho capito cosa stava succedendo e così l'ho preso e ho fatto quello che mi hanno insegnato al corso. Quindi l'ho girato, me lo sono messo la sua schiena vicino alla mia pancia e ho cominciato a fare la manovra che mi avevano insegnato. Parliamo della manovra di Heimlich, imparata al mare, a Jesolo, durante un corso gratuito organizzato per i turisti. In quel momento non avevo paura, l'ho fatto proprio anche cercando di ricordare bene quello che mi avevano insegnato e insomma dopo il secondo, terzo colpo che gli ho dato, il boccone insomma avvolto da questa alga perché praticamente era questa alga che si era incastrata in gola e è uscito. Poi insomma il coraggio è venuto meno e mi sono seduta e non riuscivo più a alzarmi. Un corso professionale, anche se svolto in spiaggia, organizzato dall'Ulss4 con grande lungimiranza. Tutti esperti del settore, è durato circa un'ora e mezza, due. Abbiamo fatto anche molta pratica sui bambolotti, su dei manichini in modo da rendere la cosa più veritiera possibile. E così mamma Federica consiglia questo corso a tutti perché nell'emergenza può salvare una vita. Lo consiglio alle mamme ma non solo, lo consiglio ai papà e lo consiglio a tutti perché ovviamente può sempre essere utile. Immediato il pensiero al medico dell'Ulss4 che era stato istruttore al corso. L'ho ringraziato spiegando un attimino cosa era successo. È stato molto contento perché ovviamente, contento perché essere utili penso che per un medico sia tanto.